e noi alle mie spalle ho un artista, un ospite prestigioso del mondo della canzone e non solo abbiamo qui con noi niente di meno che Anna Calenne Anna Calenne è la maggiorista umanista nel mondo, conduttrice televisiva ultimamente ha presentato una trasmissione televisiva di successo al club di Anna su Italia Mia un grandissimo successo, complimenti, ne farai altri per la trasmissione televisiva e poi c'è anche una sorpresa, prossimamente sarai in un film, ci vorrei raccontare brevemente di cosa si tratta? Sicuramente sì, innanzitutto buonasera a tutti e un spazio lo troverò sempre per essere qui con voi, soprattutto quando c'è la mia Tina a chiamarmi Allora sì, era, non stavi dicendo, del film, sì, un film, il settore provisodio è Devo cambiare un film che parlerà di Andrea D'Agostino, la moglie di Renato D'Agostino e sì, lei ha scritto da poco di libri, anzi, comprati perché sono già in libreria che non mi parla di Fesso e di Duratello tra poco lo presenteremo anche a Napoli, quindi veramente non dico occhio all'artista ma occhio all'articolo perché magari sono l'idea anche su internet dove si farà la presentazione e voglio anche la ritenanza giustamente, grazie, grazie, grazie sempre a tutti che mi seguite veramente tanto e cosa dire più, so che voi adesso farete un premio importantissimo alla carriera scherzo, logicamente lo so che sono la madrina di questo premio anche Tina quest'anno mi ha fortemente voluto e io la ringrazio come sempre perché dovete sapere che lei è una donna che porta fortuna, questo ve lo dico io ma sicuramente la canzone è bella, va benissimo e allora facciamo questa cosa allora facciamo questa cosa La giornata della cittadina delolo Sminato in Italia è Anna Caremme Grazie. 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 Infatti non volevo togliere tempo ai poeti. Non ti preoccupare. E sei l'ospite della sera? Questa è una sorpresa. Perché avevo questo libro in macchina. Allora, è un libro di una piccola. Ho detto, non voglio fare sempre Uhmami adesso, perché ne voglio fare in lingua napoletana! E mi ha scelta una molto bella, molto particolare... e che mi ha toccato il cuore ho leggito il titolo no nuviolina abbandonata guardi che io la spessi che ero una ragazzina ed è molto bella veramente nuviolina abbandonata nuviolina abbandonata inizia via in tal angolo nuvicchia si è dormuta no è morta dice la gente no, fatita ma chi è? ognuno che passa la domanda come? stiamo in casa, sempre in casa io sono più lì suonava sempre la mattina sera musica bella mai sentuta forse era nessuno quando suonava ti chiedevo il cuore sempre una musica triste sempre amara ma cercava carità non abbandonata no la giuriste mai stendere la mano qualche volta lo passante allungava la moneta ridò capire un colpo faccia il piede era una musicista allora una poeta sì era certamente una poeta che peccato poteva diventare coccuruna ce ne state tante in genere una scusa o tiene un presente e se fa una risata a vive o chiamavano pensate ma a morte l'ha fatta diventare artista Anna Calenne un po' un po' un po' grande artista artista politica artista popolosa e conciutica d'Italia Anna Calenne grazie